Qui c'è una gabbia e qui ce n'è un'altra. Sono due topolini, qui ce n'è uno. Nel fondo della gabbia vengono mandate scosse elettriche casuali e imprevedibili. Qui c'è il topolino da solo, cosa fa? Prova a rifugiarsi qua, la prende lo stesso, prova qua, la prende lo stesso, la prova qua, cosa fa? Però si abbandona in un angoletto e sta lì. E dopo una settimana di questo trattamento muore. Questi topolini gli si presenta la stessa situazione. Cosa fanno i due topi nella gabbia? Si combattono. Quindi alla fine della settimana hanno morsi, contusioni varie. E hanno preso in più le scosse elettriche come questo. Questo è morto, questi no, stanno vivi. Cosa ci dice questo esperimento? Che finché si combatte e non si va nella depressione, non ci ammaliamo. E questa è una cosa che per esempio, secondo Lowen, la malattia, i tumori sono in gran parte originati dall'incapacità di scaricare. Ma infatti è ben detto, no? Gli stronzi stanno sempre bene. Certo. Allora, è chiaro che questo modello non crea civiltà. Ma nemmeno questo. Quindi il punto è come possiamo evitare di trovarci in queste situazioni. Perché noi esseri umani, strani i campi di concentramento, di solito ci infiliamo. Ci cadiamo dentro, ci buttiamo dentro le situazioni. Noi creiamo il nostro destino, scegliendo le persone sbagliate con cui stare vicini, scegliendo i lavori sbagliati. Quindi la libertà consiste nel saper fuggire da queste situazioni, non metterci, soprattutto non metterci dentro, saper se c'è dentro uscire, se si può. Fatta questa premessa, adesso. Come si può intervenire in una situazione del genere da un punto di vista sistemico e non meccanico? Cosa dovrebbe fare la persona che ha paura di essere abbandonata? La sua tendenza reattiva, meccanica, lavatrici, fotocopiettori, chiavi inglesi, meccanica, è siccome ho paura dell'abbandono, faccio così. Siccome ho paura dell'invasione, faccio così. Queste sono entrambe reattività meccaniche. Cioè sono diventati degli istinti appresi. Allora, più la persona che ha paura dell'abbandono fa così, più cosa ottiene? L'abbandono. Più la persona fa così, cosa tende a ottenere dall'altra persona? Allora, e lì imparate quindi quella è una delle tecniche fondamentali del pianello umanistica, che è il basic loop. Se io ho un forte loop, il loop vuol dire faccio una cosa, l'ambiente mi risponde, l'altro mi risponde e io continuo a fare quella cosa e questo loop aggrava il mio problema. Quindi, se io sono una persona che ha paura dell'abbandono, più faccio così, più confermerò che sono sempre abbandonato, sempre abbandonato. Quindi la mia ferita cresce, quindi il mio bisogno di contatto aumenta, finché muoio, soffro, muoio. Cioè muoio nel senso che la mia vita se ne va. Più ho paura dell'invasione, più che cosa succede? Più mi escludo. Eh sì, ma se fossi solo spaventato dell'invasione, farei come gli orsi, starei benissimo. Purtroppo non sono un orso, perché se fossi un orso, ve l'ho detto prima, la persona che soffre di invasione, è perché è più identificato qua. Se fosse un orso, farebbe questo e non ci sarebbe problema. Siccome non è un orso nemmeno un coccodrillo, ma appartiene a questa disgraziatissima specie che è l'essere umano, che è un animale seciale, che ha bisogno di comunità, certo, questo può staccarsi, ma se si stacca troppo è perché è quello che poi gli succede, cosa succede? Che soffre per quest'altra ragione qui. Soffre di depressione. Capite? Quindi non si può scappare dalla nostra situazione. Abbiamo bisogno di soddisfare entrambe le esigenze dell'inclusione in una comunità e della libertà. Essere parte e nello stesso tempo liberi. Questo è il punto centrale. E allora come si fa? Alla persona che è più sbilanciata nella paura dell'invasione, cosa dovrà imparare a fare? A fare l'opposto di quello che normalmente fa, aprire il cuore e cercare proprio il contatto. Si accorgerà che se lo fa troppo genererà delle reazioni di invasione anche lei nell'altro. L'altro si allontanerà, quindi tenderà a riequilibrio. Per chi ha paura troppo dell'abbandono ha bisogno di non andare in avanti a cercare ma semmai di sapersi ritenere in uno spazio più lontano. Allora, cosa vuol dire? Che chi ha paura dell'abbandono, questo è il motomodello 2, vuol dire che abbandona. Perché abbandona? Perché se io ho bisogno dell'altro vuol dire che io mi sono abbandonato. Se io ho paura dell'invasione vuol dire che io mi sono invaso. Poi questo è più difficile capire. Ma accade anche dentro. Per esempio io ho fatto così. io tendo ad essere di natura forse un estroverso, forse. Non è detto proprio, però. E tendo a buttare molta energia. È come se avessi un'automobile e io consumo l'energia che ho fino all'ultima goccia. Il mattino dopo devo ripartire e non ho quella per andare a benzinaio. Allora faccio la cosa che non ha a che fare esattamente con la mia vita ma fai semplicemente un esempio. Allora cosa succede? Chi ho abbandonato facendo così? La mia parte più del sentire. Quindi sono andato più nel pensiero, più nell'azione, sono andato via dal sentire primario. Ok. È chiaro che il sentire primario non se ne va mica. Siccome non lo sento si fa un po' più intenso. Ma siccome non lo sento ancora, ancora più intenso. ma siccome non lo sento ancora, perché io devo essere colui che non ha queste cose, dopo si fa sentire in un modo che mi blocca e mi arriva a stare qua. Ok? Allora questa roba qua che io ho avuto tutta la vita, dove si mette con me mi dice per favore o comincia a vederla diversamente? Comincia ad attaccarmi in un modo che si mette qua. quindi sta invadendo tutta la mia vita. Puff! Ecco io che avevo paura dell'abbandono che... Io che... Eh sì, capite? Questo invade la mia esistenza. Quindi l'evasione, l'abbandono e l'invasione sono sempre due cose che sono l'eccesso. se vai troppo nel fare e perdi il sentire il sentire come bisogno cresce il fare dominante dopodiché si capovolge. Allora le malattie in generale le possiamo vedere come tentativi di riequilibrare di riportare al retto equilibrio. Queste sia quelle relazionali che quelle fisiche questo è un buon modo sistemico di cominciare a pensare. La nostra medicina non fa così. La nostra medicina pensa per organi separati, per sistemi separati. La psiche è una cosa, la neuro è una cosa, l'endocrinologia è una cosa. Ci sono voluti tanti decenni per arrivare alla psico-neuro-endocrino-immunologia che ancora adesso pochissimi medici sanno manco che esista quasi. Cioè ha una visione che si avvicina all'olismo. In Oriente la visione olistica è sempre stata presente attenzione a partire dal linguaggio. Il nostro è un linguaggio separativo e quindi produce una medicina separativa. Cioè il nostro è un pensiero separativo nasce già così. Quindi tutto quello che facciamo con quel tipo di pensiero produce nella medicina certe cose nella filosofia delle altre ma siamo sempre lì. Produce l'università che abbiamo creato oggi dell'idiotismo atomistico di sapere tutto su ciò che non conta nulla. Sai tutto sulla storia della carta vetrata. Bravo, hai la carta, ho la storia della carta vetrata. Sono quello che ha pubblicato di più sulle riviste più accreditate e sulla carta vetrata. E quindi ai convegni sono il primo che viene chiamato. Oppure so tutto della vita di Freud. se tu dici una parola su Freud ti guardo ti fulmino perché io te la so sconfessare. Eccolo qua, capito? Allora è importante che noi riusciamo pian piano a comprendere che i nostri disagi non avvengono per le teorie, non avvengono in base alle teorie che ci siamo fatti. la cosa è assai più complessa e nello stesso tempo è finitamente più semplice perché se lo vogliamo capire attraverso i meccanismi della separazione non ci basta duecento vite. I taoisti ritenevano come del resto i primi filosofi ritenevano che dovessimo metterci in ascolto della natura in risonanza con la natura per capire quali sono le leggi che governano l'universo di cui noi facciamo parte.